Grazie a tutti. E così vi invito in questo momento a chiudere i vostri occhi e permettete a tutte le tensioni nel vostro corpo di dissolversi. Rilassate il vostro viso, le vostre spalle, rilassate le braccia, le mani, rilassate l'addome, il petto, la schiena, le gambe, le caviglie, i piedi. Permettete a loro di rilassarsi completamente ed essere supportati dalla sedia o forse se siete sdaiati, dovunque voi siete. Sentite il supporto che vi sostiene. E questo è un momento dove vi viene chiesto di lasciare andare i pensieri, lasciare andare la concentrazione che avevate. Ad esempio nella domanda che è stata posta un attimo fa, che riguardava il fatto di poter avere il beneficio dello spirito quando noi non ci concentriamo. E permettete a tutto che vada via, questi pensieri che vadano via, ogni pensiero di concentrazione. Fate che possano fluttuare in una nuvola. Le nuvole che vi visualizzate, sentite e percepite sopra di voi. Questi gruppi di nuvole dove potete inviare ogni pensiero che è ancora nella vostra mente, in questo cervello attivo, logico. Permettete che questi pensieri vengano rilasciati in queste nuvole che fluttuano, che sono sopra di voi. E potete riprenderle quando finirete la meditazione e la canalizzazione. E permettete semplicemente a voi stessi di arrendervi al momento. E date il permesso per avere questo abbraccio caldo che vi viene dall'entourage di Crayon. Caro Crayon, noi ti invitiamo a venire e a darci il tuo messaggio. Vi saluto, carissimi. Sono Crayon del Servizio Magnetico. Questa è la seconda settimana del mese di questa serie per il nuovo anno. Vi ho detto che ogni canalizzazione avrà un argomento diverso ma specifico riguardo al vostro nuovo anno. Questo è il momento in cui l'intero pianeta indica come inizio di un nuovo anno. Ci sono delle eccezioni e delle culture che non celebrano questo inizio di anno, ma la maggior parte dei calendari lo fa. È un momento in cui fate dei propositi per il nuovo anno, oppure fate il bilancio di ciò che è accaduto l'anno precedente, guardandolo in retrospettiva, esprimendo ciò che desiderate e cosa no, e andate avanti. E lo fate anno dopo anno. Ma spesso non cambia molto. Sembra come un momento piacevole per fare questo tipo di pensieri, per voi stessi, per la vostra famiglia, per gli altri. Per alcuni è quasi divertente, per altri è molto importante e per altri è spirituale. Parliamone. Come vi approcciate a questo? Se siete stati con noi la settimana scorsa, abbiamo fatto un cerchio del 12 su il varo di due navi, di cui una, in questa metafora, era chiaramente una nave vecchia. In quella nave c'era tutta la vecchia energia, i vecchi modi, le vecchie cose. Mentre in quella nuova, non ve l'abbiamo detto, ma non c'era quasi nulla, perché non è stato ancora creato. È così che sono queste cose. Anche oggi, nelle domande e risposte, la risposta data dal mio partner è stata, non sapete quello che non sapete. Eppure vi chiediamo sempre di fidarvi del fatto che sarà benevolente quando arriverà, perché avete chiesto questo, lo avete pianificato, anche se non sapete cos'è. Riuscite ad approcciarvi a questo nuovo anno con questo tipo di atteggiamento ed avere voi stessi queste due navi? Mettiamola in un modo che abbia senso. Se osservate la vostra vita adesso, normalmente direste, questi sono i miei propositi, non voglio fare questo, non voglio fare quest'altro, voglio questo, voglio rinnovare questo e voglio fare questo meglio. Solitamente è così. E se invece nella vostra mente metteste le cose in pacchetti, proprio come le due navi del cerchio del 12 della prima canalizzazione del 2023, in cosa direste di essere bloccati e anno dopo anno, proposito dopo proposito, dite che andrà meglio. Ma sentite che non è così. Sapete cos'è? Può essere tante cose. E a livello individuale sapete cos'è che vi trattiene? Cos'è che vi impedisce di sentirvi bene con voi stessi, di sentirvi degni e di valore? Cos'è che vi impedisce di andare avanti spiritualmente? E di nuovo, questo può assumere diverse forme. Possono essere le vostre emozioni, i vostri atteggiamenti o il vostro corpo. Ha diverse forme e vi impedisce di essere voi stessi. E voi sapete cos'è. Potreste visualizzare di cosa si tratta e magari anche scriverlo. Wow, questo è spaventoso. Alcuni di voi non vogliono nemmeno scriverlo. Non volete dargli energia. E se invece lo scriveste su un foglio di carta, queste sono le cose che mi trattengono qui dove sono e non voglio stare qui. Queste sono le cose in cui sono bloccato perché continuano a tornare e a tornare. E magari figurativamente potete prendere queste cose, questa lista che avete creato e avvolgerla in una specie di pacchetto. E se lo fate, create un pacchetto che sia carino, che sia bello. Sarà un dono. E tra un attimo vedrete perché. E in un'altra lista potreste scrivere non quello che non volete, ma qualcosa di nuovo da fare. Ma non fate sempre la stessa lista che avete fatto anno dopo anno. Cercate di cambiarla leggermente, così che suoni più bella le vostre orecchie. Invece di scrivere quello che non ha funzionato per voi o quello che vi tiene bloccati, potreste scrivere voglio scoprire cose che accresceranno il mio senso del valore personale, il mio credere in me stesso. Cercate di non essere troppo specifici, carissimi, perché così facendo limitereste quello che lo spirito potrà darvi. Fate una lista generica e bella. Voglio sentirmi bene per motivi che ancora non so. Voglio svegliarmi ogni mattina con il sorriso per motivi che ancora non so, ma che stanno arrivando. E' questo che vedo per me stesso quest'anno. E' sempre sicuro dire voglio avvicinarmi di più alla sorgente creatrice, voglio sapere di più sull'amore e questo mi aiuterà. Che bellissima lista potreste creare senza dire voglio incontrare un partner, voglio andare a vivere in un paese diverso. Tutte queste cose sono molto lineari e forse tutte queste cose sono incluse in questa lista multidimensionale che vi sto suggerendo e in cui dite non so come, ma voglio stare meglio con me stesso. Questa è la chiave. È la chiave per permettere ciò che accadrà, che potrà essere qualunque cosa, purché creerà quello che avete chiesto. Vedete la differenza tra una lista lineare e una multidimensionale? Vi abbiamo chiesto di creare una lista lineare composta da quelle cose che sono bloccate e non funzionano più. Scrivetele e siate specifici. non mi piace il modo in cui faccio questo o quest'altro. Sono stanco di piegarmi a queste cose oppure di fare le cose nel modo sbagliato per anni e anni. Fate questa lista, scrivetela e poi impacchettatela. Impacchettatela proprio come fareste per il regalo di Natale magari o di un compleanno. Fate un bel pacchetto perché farete un'offerta e lo farete tra un momento. L'altra lista che avete fatto invece non voglio che la mettete in un pacchetto, carissimi, ma che ve la mettiate in tasca perché questa è la lista che terrete a fianco a voi. Non dovrete impacchettarla e inviarla. La terrete vicino tutto il tempo. Potete metterla a fianco al letto e consultarla regolarmente per ricordare a voi stessi cosa potrebbe accadere, cos'è possibile. Ora invece per quanto riguarda il piccolo pacchetto che avete creato con tutte le cose lineari che non vi piacciono, vi chiederò di fare qualcosa, qualcosa che tutti gli psicologi approverebbero e direbbero è corretto. Si tratta di una sorta di cerimonia. Prenderete questo dono e lo distruggerete. il modo migliore per farlo, carissimi, è nel fuoco così da poterlo vedere mentre viene consumato. La vostra mente lo vedrà bruciare, lo considererà distrutto e irrecuperabile. E in questo modo state dicendo all'universo, allo spirito e a chiunque vi vedrà farlo se scegliete di farlo con altre persone, state dicendo è finita, è andata. Quei pensieri che avevo, quelle cose bloccate non torneranno e non saranno mai più me. ora sono tra le fiamme e invece le cose che sono me sono queste richieste più generali che ho fatto per me stesso allo spirito e che ho nella mia tasca. Fa che per me accadano cose che creino autostima, salute, bellezza, gentilezza, compassione che facciano sorridere il mio volto. Non devo sapere quali saranno perché lo saprò quando accadranno. e quelle cose vecchie nella lista che ho gettato nel fuoco non saranno più bloccate e permetteranno l'arrivo di cose belle per me da adesso in poi. Questo è più di un proposito, carissimi, è un impegno. Sì o no? Fate sul serio oppure no? Questi sono momenti in cui mettete insieme tantissimi tipi di promesse per voi stessi, per gli altri, in occasione di questo rinnovamento che avete sul vostro calendario, un nuovo inizio del vostro calendario. Ed è per questo che vi sto invitando a fare queste cose adesso. e ogni volta che dubiterete tirate fuori la lista dalla vostra tasca e ricordate questa canalizzazione oppure riascoltatela. Leggete le cose che avete scritto per voi stessi. Nulla è più personale di questo per voi. Vi dico queste cose e vi do questo esercizio perché so che funziona. Io so chi siete. Animi antiche, operatori di luce, in ascolto adesso. Tutte queste cose sono possibili. Io sono Kryon, innamorato dell'umanità. E così è.